Come va? Bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, allora oggi vediamo quando arriva il pagamento di questo benedetto SFL, supporto, formazione e lavoro. Pare proprio, pare proprio che da martedì 21 l'Inps ha iniziato le lavorazioni per poi procedere al pagamento. Infatti avevo già scritto un post qui su YouTube, no? Se andate nella scheda community del mio canale c'è il post dove aveva appunto chiesto e qualcuno appunto mi aveva risposto. Fate solo attenzione che la data di invio disposizione, ripeto, data invio disposizione, quindi stiamo parlando del pagamento vero, il pagamento effettivo, ancora non è comparso a tutti quanti, non appare a tutti quanti ancora. Comunque voi non vi preoccupate perché tanto sapete che l'Inps comunque paga, paga tutto, e a questo punto si tratta solo di tempo di aspettare ancora un attimino e che poi entro fine serata arriverà a tutti. A questo punto l'Inps, avendo già iniziato tutte le lavorazioni, viene da pensare, veramente viene da pensare, che forse, forse riesca persino ad anticipare i pagamenti di un giorno, ecco diciamo. E allora se veramente anticipasse questi pagamenti di questi benedetti 350 euro del mese di maggio, a questo punto si potrebbe già iniziare a parlare del fatto che i pagamenti potrebbero arrivare anziché al 28, addirittura al 27. E adesso non vorrei proprio anticipare, anticipare, dire magari uno si mette in testa in idea strana, però, 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 magari, 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 intorno al 23, quindi giovedì, ho il calendario qua davanti, quindi intorno al giovedì 23 o intorno al 24, magari, magari, se incrociamo le dita, a quelli che si svegliano, iniziano a fare i pagamenti. Noi teniamo validi, noi teniamo valido, adesso non per che uno dice, eh ma tu vuoi, perché teniamo valido il 28. Poi, comunque, il 27 non fa schifo, e il 23, il 24, eh, su quelli poi vi tengo aggiornati, perché è una cosa così, eh, il 23, il 24 è una data eccezionale. Però, voi sapete che con calma, poi io vi tengo aggiornati tutti quanti, voi, l'importante è che siete iscritti al canale, attivate la campanellina, così siamo tranquilli. Ah, tornando un attimino sul discorso del calendario dei pagamenti, vi ricordate, scusate, eh, che ogni tanto suonano i telefoni qua, vi ricordate che tempo fa, tempo fa, l'Inps aveva, più o meno, riproposto gli stessi calendari di pagamento, di RDC, del vecchio RDC. Bene, allora, diciamo così, aveva detto che le domande che erano arrivate entro il 15 del mese, con tutte le condizioni, soddisfatte, nessun problema, tutto a posto, tutto tranquillo, eh, il pagamento veniva fatto dal 27 dello stesso mese. Mentre per tutte le domande che erano arrivate, ovviamente all'Inps, nel corso del mese, sempre anche qui, con stesse condizioni, tutto a posto, senza problemi, tutto tranquillo, eh, però, dopo il 15 del mese, quindi dal 15 al 30 o 31, il pagamento veniva fatto dal 15 del mese successivo. Quindi, primi 15 giorni, 27, ultimi 15 giorni del mese, 15 del mese dopo. E poi, vabbè, questo ve lo ripeto sempre, ormai tra un po' vi esce dalle orecchie, ricordatevi che i pagamenti arrivano per tutti quelli, tutti coloro, tutti quelli che frequentano un corso di aggiornamento, un'attività, eh, non so, dei programmi lavorativi, ecco, quindi bisogna frequentarlo. Non basta iscriversi e poi andare all'Inps e dire, adesso mi sono iscritto, eh, adesso voglio, no, bisogna frequentarlo, anche perché la segreta idea del corso, quando iniziano i corsi, cosa fa? Comunica, in teoria, comunica all'Inps, appunto, la partecipazione del corso, quindi comunica i dati delle persone all'Inps e l'Inps dice, ok, va bene, allora paghiamo questa persona. Cioè, il meccanismo è semplicissimo. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. A presto! Ciao!